perché stanno riempiendo con miele proprio fresca si vede anche questa parte qua speriamo perché non piove per riprendere un po di produzione un po in più. E che miele fanno? Allora noi facciamo acacia, tiglio, millefiori, cascagno e tarasso ci sono altri fiori però non mi ricordo il nome adesso però viene diviso più o meno tutti come sono qualità vengono divisi in questa maniera anche per passione io sono anche altre postazioni di arnia? Sì abbiamo un'altra postazione in zona nostra poi ci abbiamo un'altra parte poi li spostiamo in zona di Bergamo e Brescia dove troviamo castagne e un po di miele di millefiori più pulita di questa zona qua. E qua principalmente che miele c'è qua in questa zona? Allora in questa zona qua abbiamo acacia, tiglio, tarasso e millefiori